Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Ed eccoci! E bentornati! Questo è Risolto Giallo, questa Alessia Sorgato e questo è Niccolò Mazzavillani e invece quello è Adriano Morsetti. Benvenuto! E questo è il suo libro, benvenuto! Benvenuto! Grazie dell'invito! Tra l'altro tocchiamo un tema che è abbastanza importante, lo si capisce già dalla copertina. Che va letta così? Esatto! Che verrebbe da metterla così e invece così? Il breve mestiere di vivere. Sanremo non è solo festival. E qua potremmo già toccare una polemica. Intanto, Adriano Morsetti chi è? Di bello. Di bello non lo so. Di lavoro ormai da un po' di anni scrivo cartoni animati. Attenzione! Forza mille anni di famiglia domani! Attenzione! Sono uno sceneggiatore di serie, sì. È fantastico! Ma sì! Lavoro prevalentemente con una casa di produzione di Torino che lavora per la RAI e per il mercato europeo e internazionale, dipende un po' dalle serie. Quindi con RAI GULP? RAI GULP o RAI OIOLI dipende dal target, perché c'è questa cosa, per cui se superi tre anni vieni promosso a RAI GULP... I tre anni di età dell'utenza? No, dello sceneggiatore. Ah, ok! Ah, c'è proprio una... Da poco ho superato, adesso non è arrivato a RAI GULP. Sì, sì, sì. Pazzesco! È un mercato molto, molto targetizzato, quindi... Ce la spieghi, per favore? Non ci capita più! Ma infatti io non volevo neanche parlare, perché so che poi alla fine prevale l'interesse per i cartoni... No, 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 no! No, scherzo, scherzo, so perché... No, ma tutte le volte che parlo anche in giro so che l'interesse c'è forte. No, praticamente ormai il mercato dei bambini è ultra targetizzato, per cui c'è un interesse mostruoso da parte della pubblicità e di chi fa i giocattoli. Quindi da due anni, tre anni, quattro, cinque, sei, sette sono mondi totalmente diversi anche per i cartoni animati e quindi RAI da un po' di anni ormai è adeguato quantomeno ha la sua divisione in due canali per bambini età asilo, nido o bambini un po' più alti quindi che vanno già all'alimentare fino a sette, otto anni. Caspita! E questi sono i bambini, ma è l'upgrade dello sceneggiatore? No, no, quello no, scherzavo. No, 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 assolutamente dipende dal tipo di serie. Nel senso che... Ma di la verità che tu i bambini proprio... Ma io quando ho iniziato a 12 anni fa ho detto boh, non lo so. Poi invece pian piano mi ci sono trovato poi mia moglie lavora un anno asilo un asilo... Ah, beh, caspita! Gioco in casa, non abbiamo figli però c'ho un mondo di racconti, storie e fotografia dell'evoluzione perché comunque in dieci anni anzi lei lo fa da più di quindici anni c'è un mondo di cambiamenti molto, molto interessante. Quindi sceneggiatore e scrittore. Sì. E sono andate di pari passo queste due strade? Allora, per tanti anni avevo l'idea in testa da tantissimi anni ma avevo paura di provarci. poi prima del lockdown ho iniziato a buttare giù poi idee e svolgimento della storia dei personaggi e poi negli ultimi due anni ci ho lavorato seriamente fino ad arrivare appunto alla pubblicazione. Cioè è arrivata giungla gialla hai capito? È proprio partito dal nulla. No, però vedi è da un po' che non ritornava la storia periodo quarantena inizio a scrivere qualcosa poi approfitto perché molti scrittori che sono passati di qua sono nati proprio grazie è anche un po' brutto da dire però grazie alla quarantena quindi la possibilità di buttarsi veramente a capofitto sulla scrittura senza distrazioni o che poi chiaro tutto il contesto non era chiaramente dei migliori. Io se posso dire a me il lockdown non è cambiato nulla nella mia vita nel senso che io scrivendo in casa lavoro in casa e tendenzialmente non esco se non per portare i cani che è quello che poi ho fatto nel lockdown quindi fondamentalmente non è cambiato niente non è cambiato molto vivo in un paesino fuori pavia che fondamentalmente non ha persone lungo la strada durante il giorno e pari pari durante il lockdown non me ne sono quasi d'accordo girava poca gente prima e le stesse con i cani durante te ne sei d'accordo dal telegiornale qualcosa era successo ho notato eravamo da un'altra parte no però sì assolutamente no e questo è il cambiamento che ti è arrivato con lockdown assolutamente prendiamoglielo questo conio a Cesare ti pubblica niente meno che giungla gialla del nostro amico Fabrizio Carcano non è proprio una cosa che succede a tutti esatto giungla gialla anche questo era da un po' che non tornava giungla gialla ma quando viene arriva qua e fa fare giungla gialla tra l'altro Fabrizio Carcano noi ti stiamo aspettando da un pezzo devi venire la terza volta tu lo sai che non c'è due esatto dobbiamo toccare il numero dei tre abbiamo toccato le coppie adesso bisogna andare di tre andiamo al terzetto cosa si può dire di questa tua storia di questo tuo innanzitutto io sono nato a Sanremo quindi è un luogo un mondo che conosco bene me ne sono andato intorno ai vent'anni ma ho ancora la casa e quindi ci scendo spesso quindi è un legame io ho vissuto in tante città ma un legame forte con Sanremo non l'ho mai più costruito con nessuna città quindi era il mio mondo di riferimento per forza diciamo un noir possiamo dire ambientato a Sanremo durante il festival del 1993 chi l'ha vinto? non lo so infatti la domanda chi l'ha vinto nel 93? aspetta chi era? allora il titolo del romanzo dovrebbe aiutarti no non vi aiuta però dovrebbe il breve mestiere di vivere è il solo mistero che c'è ah sai che no no questa non la so Enrico Ruggeri mistero la regia insorta la sapevi regia? sì la sapeva e come mai la scelta di quelle come mai la scelta di quest'anno cioè c'è una scelta particolare? per una serie di motivi la maggior parte credo inconsci ok se devo dirne due principali allora il 93 perché è un po' la fine di un periodo storico italiano l'anno dopo Berlusconi sarebbe sceso in campo avrebbe vinto le elezioni quindi si sarebbe aperta una nuova fase sociale politica quello che vogliamo quindi in qualche modo c'era l'affacciarsi di Tangentopoli quindi era interessante fotografare io mi sono laureata nel 93 15 giorni dopo ho cominciato a fare ok e quindi dalle tue parole mi collego al secondo motivo per cui avevo 16 anni io nel 93 ed è stato forse il primo festival che ho vissuto a prescindere dall'evento televisivo ma vivendolo in città perché la cosa bella del festival a Sanremo è che Sanremo durante quel periodo durante quella settimana sembra Las Vegas poi torna ad essere una città abbastanza noiosa abbastanza soprattutto soprattutto il nostro regista quest'anno si è fatto tutta la settimana di Sanremo lì in sala stampa abbandonando noi risolto giallo è sempre divertente ma come lo era negli anni 90 era veramente Las Vegas cioè non ci sono altri paragoni perché aprono locali durante la settimana che non esistono durante l'anno cioè la cosa bella la cosa bella è che sponsor radio televisione magari affittano locali commerciali del centro e per una settimana soprattutto negli anni 90 adesso è un po' più più chiuso come un mondo più esclusivo aprivano per fare feste di continuo tutto il giorno quindi veramente era soprattutto veramente divertente adesso è un po' cambiato ultimamente un po' come in sala del mobile io a Sanremo durante il periodo festival non ci sono mai stato sono stato in altre situazioni quindi quando Sanremo è davvero una città normale ed effettivamente non mi ha colpito particolarmente poiché non ce ne vogliano i Sanremesi Sanremesi quindi figurati a 16 anni come senti la differenza e che cosa possiamo raccontare di questa storia del 1993 Ruggeri resta vivo tu sei già che io ho una domanda dopo la tua tu lo sei già sì sì no ma io voglio qualcosa certo voglio sapere qualcosa tra i numerosi giornalisti che sono giunti in città per seguire l'evento c'è anche il nostro protagonista che è un modesto inviato di una scalcinata rivista di gossip un tempo Sanremo era la sua città lui è nato lì ed era un brillante cronista del giornale locale ma per un evento che scopriremo lungo il romanzo ha dovuto lasciare la città scappare l'evento ha poi posto fine alla sua carriera arriva Sanremo il giorno dopo il suo arrivo rimane imbeschiato nella morte di un suo caro amico per la polizia si tratta di un semplice incidente è caduto da un'impalcatura lui era un muratore ma troppe cose non tornano e quindi controvoglia molto molto controvoglia il nostro protagonista inizia ad indagare si mette alla ricerca della verità nel clima surreale del festival quindi tra feste di sponsor cantanti feste esclusive caravan insomma il casino che c'è durante quel periodo fino a poi a andare a toccare poi una serie di segreti di misteri che nasconde la città e restando sul tema del protagonista tu Adriano hai detto che è un noir quindi un noir immagino che il protagonista non sia un una persona tutto da un pezzo cioè i suoi scheletri ecco se ce ne potevi parlare poi anche magari se c'è qualcosa di te nella figura del protagonista oppure oppure no beh come avvenete all'inizio io scrivo cartoni animati quindi ho una serie di paletti molto digiti su quello che posso dire quindi il protagonista prima cosa potendo scrivere cose mie doveva bere e fumare quindi classico personaggio noir di partenza quindi bere tanto e fumare tanto Humphrey Bogart sarebbe assolutamente d'accordo poi l'ho un po' attualizzata nel senso che appunto ci sono tutta una serie di citazioni pop e il clima di Sanremo si presta particolarmente quindi non è la figura stereotipata dell'hardboil da anni 40 non c'è molto di me nel personaggio nel senso ormai il tema conduttore scrivendo cartoni animati io lavoro sempre su progetti iscritti da altri che si basano su quello che si chiama Bibbia cioè un libro che può essere più o meno voluminoso alle volte arrivano anche a 100-150 pagine in cui ci sono concept personaggi tipo di storie temi trattati e quindi mi piace molto scrivere in quel modo e quindi quando scrivo cose mie cerco sempre di lavorare su personaggi che siano distaccati da me e che abbiano un certo grado di sviluppo come quello che poi hanno contengono le Bibbie di cartoni animati quindi poco di me c'è molto ovviamente di Sanremo dei miei ricordi dell'atmosfera del festival delle luci e delle ombre di Sanremo e questo è un aspetto che secondo me è poco conosciuto cioè l'immagine televisiva di Sanremo è abbastanza nota ci sono tutta una serie di lati oscuri di infiltrazioni criminali abbastanza pesanti che cerco un po' qualche modo di raccontare all'interno di Sanremo ma nella tua storia? no 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 nella realtà nella realtà nella realtà infatti il noir mi permetteva a prescindere dagli stereotipi appunto del genere del personaggio più o meno misterioso alla Henry Bogart mi permetteva appunto di con un po' come fa Carlotto con tutte le dovute distanze come fa Izzo a Marsiglia cioè raccontare la città dal punto di vista dello sviluppo criminale che avviene all'interno delle sue trame questo è estremamente interessante anche perché noi altri di Sanremo oggi come oggi che cosa registriamo? La grande differenza di pubblico che ha dall'epoca di cui parli tu ad ora cioè io ricordo che nel 93 dire guardo una puntata di Sanremo era come darsi della sfigata da sola perché figuriamoci se potevo guardare una roba che guardava mia mamma mia nonna chiaro adesso i figli delle mie amiche sono tutti appiccicati sì sì assolutamente perché ci sono i loro cantanti che si esibiscono ma anche perché c'è un altro un altro tipo di promozione cioè sarebbe un discorso anche secondo me un po' più un po' più ampio non solo legato alla canzone ma anche al fatto di che se ne parli cioè creare qualcosa però le puoi parlare quanto vuoi se continui a vedere Nilla Pizzi e Peppino Di Capri i ragazzi non te lo guardano se cominciano a vedere i loro eroi i loro cantanti lì così cambia tutto però sai l'aspetto di cui parli tu l'aspetto criminale è un argomento molto sottotraccia molto sottaciuto infatti sei stato coraggioso sì poi mi salvo sempre quando sono andato a fare la presentazione a Sanremo dicevo no ma parlo del 93 adesso Sanremo è rose e fiori assolutamente quindi mi permetteva di creare una sorta di distacco adesso c'è una città meravigliosa oggi no diciamo che l'aspetto criminale che sicuramente c'è ancora a Sanremo la fortuna è che il 93 è stato fotografato dalla cronaca quindi i giornali nella prima stesura ho fatto una stesura molto di inconscio libera poi sono andato un po' a ricercare anche un po' di articoli dell'epoca e ho ritrovato molte cose che avevo un po' di cui avevo già parlato nella prima stesura ma che appunto erano già presenti nella cronaca locale e anche nazionale perché in quel periodo Sanremo era anche sotto riflettori nazionali da quel punto di vista non solo per il festival Sanremo è una città molto complessa nel senso che ha 60.000 abitanti quindi di base è una cittadina di provincia con tutti i pregi e i difetti della cittadina di provincia ma è ricchissima e famosissima ha un giro d'affari che potrebbe essere quello di una capitale o comunque di una città molto molto importante perché tra casino turismo negli anni 90 i fiori che oggi sono un po' in declino ma erano fortissimi sicuramente ha un giro d'affari come tutte le volte che si parlano di soldi costa azzurra la frontiera un passo diciamo che era abbastanza appetibile per tutta una serie di discorsi di infiltrazioni mafiosi ragazzi io purtroppo volevo fare un'ultima domanda non ci abbiamo tempo l'ultimissima stai scrivendo adesso Adriano hai in mente di scrivere un altro romanzo o di continuare sempre sulla linea del breve mister cioè con lo stesso protagonista no per fortuna mi è venuta l'idea per un sequel quindi con lo stesso protagonista sempre a Sanremo ma è venuta in maniera spontanea non volevo che fosse forzata siccome mi è sembrata interessante ci sto iniziando a lavorare ah bene bene ottimo e allora arrivederci all'anno prossimo assolutamente alla prossima Adriano grazie mille grazie a voi dagli studi di Milano all news è tutto per questa puntata di Risolto Giallo che vi ha portato dietro le quinte del festival di Sanremo insieme ad Adriano Morosetti e al nostro mitico Mazzavillani buona serata buona serata quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a Risolto Giallo 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 Grazie a tutti.